Ragazzi buongiorno a tutti, bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi 11 aprile 2022, Bitcoin 40.800 dollari, quindi ragazzi guardiamo insieme la situazione come è iniziata questa settimana per Bitcoin ma anche per tutto il mercato delle crypto, guardiamo il time frame giornaliero, occhi puntati anche sulla media mobile, una media mobile molto importante che guardiamo insieme, guardiamo il sentiment che c'è sul mercato e poi concludiamo con un po' di oppio che è che arriva fresco fresco da Twitter, quindi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi, ragazzi guardiamo insieme la situazione, il grafico di Bitcoin time frame giornaliero, vediamo che due indicatori in particolari che segnalavano che aprile era iniziato per il verso giusto, purtroppo ci stanno dando un segnale diverso da qualche giorno a questa settimana, quindi Bitcoin con i recenti ribassi non solo ha perso il supporto delle medie mobili che vanno a comporre il William Alligator che vedete qui colorate di azzurro, rosso e verde, come vedete abbiamo violato il supporto di queste tre medie mobili ma siamo anche al di sotto del principale punto di supporto statico del mese di aprile, il punto pivot, il livello pivot che si si trova a 43.600 dollari, quindi Bitcoin in questo momento è avviato plausibilmente a testare il livello S1 del mese di aprile che si trova a 39.000 dollari praticamente spaccati, quindi in questo momento considerata la posizione del prezzo di Bitcoin sotto il livello PV e sotto le medie mobili possiamo plausibilmente aspettarci una continuazione dei ribassi. C'è da dire che Bitcoin si trova in questo momento ad un livello di supporto molto importante perché vediamo che c'è della confluenza, se andiamo un pochino indietro proprio con questo livello il 41.800, vediamo che è stato un livello particolarmente rilevante sia in questa circostanza ed eravamo a settembre 2021, ma anche tornando indietro lo stesso livello è stato resistenza nell'estate del 2021 e ancora indietro resistenza addirittura a gennaio 2021, quindi un punto sicuramente di forti scambi che potrebbe eventualmente risultare in supporto a seguito di un importante livello di resistenza, quindi siamo proprio in prossimità di un livello fondamentale per Bitcoin, un punto importante da conservare per i bulls. Se guardiamo la struttura nel complesso nonostante il ritrasciamento non è comunque compromessa perché Bitcoin sta comunque mettendo a segno una struttura di minimi che sono tra loro uno più alto del precedente, quindi degli higher low, mentre abbiamo anche qui un higher high rispetto ai precedenti, quindi per adesso la struttura continua ad essere macro rialzista. Se guardiamo poi sempre time frame giornaliero vediamo che gli occhi sono puntati in particolare su una media mobile molto importante, sto parlando della media mobile dei 100 giorni, qua siamo stati rigettati dalla resistenza dei 200 giorni e vediamo se riusciremo a chiudere la giornata al di sopra di questa media mobile, quella dei 100 giorni più o meno al di sopra dei 41.500 dollari, sarebbe importante vedere una chiusura al di sopra di questa media mobile. La settimana scorsa Velvet, quindi un account Twitter molto rilevante, aveva riparlato della possibilità che potessimo ritestare la media mobile come punto di supporto. Guardiamo poi Lux Algo, vediamo che il segnale delle 4 ore che è arrivato qualche giorno fa, più o meno in prossimità del 31 marzo, è in questo momento ampiamente in profitto con il primo take profit che è arrivato nella giornata di ieri, mentre anche il time frame orario con lo short aperto più o meno in zona 44.000 adesso è ampiamente in profitto con il primo take profit che è arrivato nella giornata più o meno questa notte in zona 41.8. Vi ricordo che come approccio io questi segnali, tendenzialmente apro il trade in caso short, in caso di segnale di vendita, apro un trade long in caso di segnale di acquisto, all'arrivo del take profit vado a ridurre la posizione del 50%, mentre quando arriva il segnale contrario chiudo e apro il segnale contrario. Adesso iniziamo ad avere un po' di dati a nostra disposizione, vi mostro qual è la performance seguendo questi segnali. Per adesso sicuramente a livello di accuratezza i segnali delle 4 ore sono molto efficaci. Vediamo che il livello che c'è di paura in questo momento è molto importante, siamo tornati in zona fear, quindi 32 su 100, siamo ripiombati dopo una fase neutrale nella zona di paura. Vi ricordo che la regola base è quella di acquistare o comunque essere più aggressivi quando siamo in una zona di paura, piuttosto che logicamente quando siamo in una zona di extreme greed, quindi estrema avidità. Quindi la mia opinione rimane comunque che questi prezzi nel medio e lungo termine saranno comunque degli ottimi punti di acquisto. Vediamo un po' se Bitcoin riuscirà a creare o mantenere comunque una struttura di higher law ed eventualmente trovare il supporto del livello pivot alla peggio. Vediamo che da un punto di vista di Twitter un po' di oppio rialzista. Abbiamo TA Analyst che ci mostra che c'è potenzialmente un test a spalle, avevamo un test a spalle rialzista, violazione della neckline e adesso siamo nella fase di ritest proprio della neckline. Quindi Bitcoin sta ritestando un supporto che prima era resistenza con un potenziale target addirittura di 63.100 dollari. In ultimo ragazzi guardiamo questo tweet che arriva da BTC Ewell che mostra come l'attuale andamento di Bitcoin sia molto somigliante, quindi il frattale di Bitcoin sia somigliante a questo Justin Mamis sentiment cycle. Quindi esattamente in questa circostanza abbiamo avuto una sorta di doppio massimo, una violazione del supporto, un downtrend e poi un consolidamento con l'ultima fase che si chiama Aversion prima dell'esplosione finale dei prezzi. Quindi questo influencer mostra la somiglianza tra questi due frattali e che eventualmente in questa circostanza potremmo trovarci in prossimità dell'ultima fase di tracciamento prima della continuazione del ciclo rialzista. Ragazzi per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, se ritenete che vedremo Bitcoin sotto i 40.000 o meno, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!